Sono arrivati adesso fuori dal sito, questo sito dove ci è stato segnalato una donna incinta e una bambina di due anni. Ora cerchiamo. Abbiamo fatto la prima valutazione e all'interno ovviamente a parte gli arredamenti c'è comunque anche parti di crollo del palazzo e comunque tutti gli spazi sono stati poi occupati dal fango. Quindi sarà difficile la ricerca e comunque proviamo a togliere questi intracci.